Qual è il piatto più buono che ho sentito a MasterChef? Beh ragazzi, dopo 18 edizioni, perché io li ho fatti tutte, non me ne ricordo neanche uno. Dai no scherzo, ce ne sono stati dei buonissimi, però vi posso garantire che il miglior piatto che ho assaggiato a MasterChef... I sapori della mia terra.